Benvenuti cari follower. Un forte terremoto ha colpito l'Italia questa sera, mercoledì 20 settembre 2023, suscitando grande paura. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di supportarci prima ammirando questo video e anche di iscrivervi al canale e attivare la campanella su tutte le notifiche, in modo da ricevere tutte le novità ed esclusive sulle notizie sui terremoti in Italia nel momento in cui si verificano. Grazie. Se poco fa la Terra ha tremato nel Nord Italia, precisamente in Toscana, e secondo il Centro Sismologico Europeo, questo terremoto è avvenuto a 47 chilometri a nord-est di Firenze, 14 Modigliana, e ad una profondità di 7 chilometri dalla superficie del Terra. Secondo il Centro Europeo, l'intensità del terremoto ha raggiunto circa 3 gradi su una scala. Richter. Si tratta di un terremoto abbastanza lieve, che a volte può non essere avvertito, ma è monitorato da apparecchiature avanzate di monitoraggio sismico. Questo terremoto non ha a causare alcun danno, solo una leggera vibrazione durata da pochi secondi. Alla fine, che tu possa rimanere in buona salute.